Abbiamo avuto il convegno sull'apprendistato e io ritengo sia stato un convegno molto positivo e di fondamentale importanza. Sono usciti una grande quantità di spunti che ci permettono di lavorare, che confermono quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con Asso Lombarda sta andando nella direzione giusta. Come Asso Lombarda abbiamo identificato questo tema fin dall'inizio delle nostre attività sotto la presidenza Rocca. Siamo molto contenti che abbiamo visto dei risultati concreti già con il decreto Poletti, risultati che hanno portato anche un cambiamento dei numeri. Recentemente i dati pubblicati da Asso Lombarda ma anche i recenti dati del Ministero del Lavoro dimostrano un migliore e più esteso utilizzo dello strumento dell'apprendistato. Noi come umano abbiamo portato il nostro apporto per quanto riguarda l'utilizzo della flessibilità nella somministrazione. Pochi ancora lo sanno ma l'apprendistato può essere utilizzato con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Dove noi possiamo avere un ruolo di facilitatori sia per quanto riguarda gli aspetti burocratici sia per il piano formativo. Due aspetti che hanno rallentato nel passato l'utilizzo dell'apprendistato che invece noi vediamo personalmente in buono sviluppo. C'è ancora molto da fare, ancora dobbiamo continuare a semplificare ma dobbiamo anche continuare a lavorare con le nostre società. Quindi miglioreremo quantitativamente l'apprendistato ma cercheremo di migliorarlo anche qualitativamente perché sia uno strumento di formazione e di aumento della competitività delle nostre aziende. È una cosa e anche un nostro dovere. Penso che potremo migliorare il nostro mercato del lavoro ma migliorare anche le nostre società e infine il nostro paese.